Acqua e sapone news! Offerte di un altro pianeta! Quale pianeta? Sì, Nettuno! Vicino Uranio! Sì, Plodonio! Linea Emanuela! Folliero! Grazie al kit Aria Sana Aero 360 che assorbe l'umidità eliminando i cattivi odori in casa è a 7,90€. Scopri anche tutte le fragranze delle ricariche e per gli armadici Aria Sana Mini Fresh. Io provo anche Aria Sana Spray Disinfettante. Elimina fino a 99,99% dei batteri. Vale, il tuo viso non ho valuce. Grazie a Clean Yance. La crema giorno Clean Yance anti-rugheri in polpante intensa ha in offerta 7,90€ e per un'efficace pulizia della pelle c'è l'acqua micellare Hydra Plus da 400ml a 2,99€. In più con un prodotto di trattamento viso o due di pulizia a viso Clean Yance in omaggio un gel detergente rinfrescante Hydra Plus. Siamo ai saluti! Franci, non solo le offerte vengono da un altro pianeta ma anche tu! Sembri un alieno. Vengo da Ork. Ti chiami Mork? Acqua e sapone, oltre la convenienza. Allora1 Grazie a tutti.